Il ministro della marina, ammiraglio de Curten, ispeziona alcune unità della nostra flotta, fra le quali la corazzata Italia, ex Littorio. Nel giungere a bordo dell'Italia, l'ammiraglio de Curten saluta i vari comandanti delle unità presenti. Dopo aver passato in rassegna l'equipaggio, il ministro ha rivolto brevi parole alla gente schierata a poppa.